L'Italia è appena uscita dall'esperienza fallimentare del super bonus 110% voluto dal governo grillino Conte 1 e 2 e l'Europa ci sta per entrare con tutte le conseguenze che ne scattureranno anche perché la Commissione europea vuole lasciare dietro di sé un obbligo di riqualificazione energetica degli edifici europei di portarli minimo alla classe E entro il 2027, il dopodomani praticamente, con una spesa che saranno a carico di tutti i proprietari di casa e saranno dolori. Ne parliamo in questa puntata dello schiacciassi ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e condividere i contenuti con i vostri amici. A tra poco dopo la sigla. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassi da parte di Stefano Elena. L'Italia è appena uscita dagli effetti del super bonus 110% che ha portato assieme al super bonus facciate una marea di truffe e di malaffare. Tant'è vero che anche questo provvedimento, oltre ad essere stato palesemente sottovalutato nella sua portata finanziaria da parte del governo di Giuseppe Conte, che inizialmente è strutturato per costare circa una trentina di miliardi, a regime ne costerà almeno 130-140 e che sta scassando i conti dello Stato con difficoltà per fare la manovra finanziaria 2024 da parte del ministro Giorgetti a non finire. Il problema appunto è quello che l'Italia è uscita dal super bonus 110% ristrutturando al 31 maggio 2023 411.871 unità abitative, secondo quello che è l'indagine che fa periodicamente ogni mese l'Inea sulle asseverazioni presentate per poter accedere al super bonus, delle quali naturalmente casette unifamiliari, seconde case, addirittura sei castelli costati parecchi milioni di denaro a cada uno, pagati naturalmente da tutti i contribuenti, anche da coloro che risiedono in affitto, perché l'equità del super bonus è stato quello di utilizzare i soldi dei poveri per ristrutturare le seconde case o la prima casa di coloro che avevano i soldi per poter avere il beneficio della compensazione fiscale, ma tant'è. Il problema è che oggi la Commissione europea si è incapunita nell'ambito del piano Fit for 55 di andare a riqualificare tutti gli immobili esistenti in Europa portandoli per tappe successive a classi di rendimento energetico via via migliore, partendo dal 2027 per arrivare poi al 2030 e nel 2050 arrivare alla classe zero. Il problema è che la scadenza del 2027 è praticamente per dopodomani, tra cinque anni praticamente, quattro visto che ormai il 2023 gli sgoccioli e entro il 2030 si dovrà fare un ulteriore salto di qualità andando al minimo in classe D, tant'è vero che la stragrande maggioranza di coloro che dovessero fare un intervento opterà direttamente per andare in classe energetica D per non avere la propria abitazione continuamente contornata da un cantiere. Il problema è che del totale degli edifici residenziali in Italia, quelli che sono nella classe energetica peggiore, quindi la classe G e F, quelle che sono costrette giocoforza secondo le strategie europee a intervenire per poter migliorare la propria classe energetica, pena l'uscita dal mercato perché la prima versione del disegno di legge europeo impediva addirittura la vendita e l'allocazione degli immobili non efficientati. Oggigiorno pare che la cosa sia stata un pochettino edulcorata, però non essendoci ancora un testo definitivo perché è ancora tutto in corso d'opera per via delle trattative tra commissioni, consiglio dei ministri, consiglio dei paesi membri e quant'altro, però le scadenze ci sono ed questo pare che siano un paletto insormontabile. E se per caso dovessero essere confermate cose di cui molti incominciano a temere i risultati e soprattutto incominciano a frenare, entro il 2027-2030 oltre 1.800.000 edifici dovrebbero essere messi a norma, passando dalla classe energetica G ad almeno quella E o D, con un importo di spesa medio per unità abitativa variabile dai 35 ai 50.000 euro. Fate un po' voi il conto perché per un condominio di 20 famiglie il costo moltiplicato a 50.000 euro per unità abitativa, medie, perché secondo poi se l'appartamento è più o meno grande per i millesimi di ripartizione, andrebbe a costare circa un milione a unità a palazzo. E questi soldi qua chi è che li paga? L'obiettivo dell'Unione Europea sarebbe quello di scaricarne i costi sullo Stato, sui vari Stati, però non tutti gli Stati hanno la capacità di poter pagare una simile cifra. Pensiamo semplicemente agli oltre 110 miliardi già spesi con una tendenza ad andare a circa 140 degli effetti del super bonus per l'Italia che, ricordiamocelo, ha ristrutturato 411.000 e poco più unità abitative. Qua si tratta di farne almeno 1.800.000 e poi aggiungersene ulteriori altre perché si dovrà salire di grado fino al 2050 per arrivare quasi tutti quanti agli edifici passivi. Ma ne vale la pena? C'è poi materiale sufficiente per poter realizzare tutti questi interventi? Ci ricordiamo tutti quello che è successo nel periodo del super bonus che con la corsa alla ristrutturazione a gratis, come diceva Conte, pagata dallo Stato, anzi pagata da tutti i contribuenti compresi quelli che non avevano immobili, non avevano le seconde case e che vivono in affitto, ricordiamocelo bene, sottolineiamolo questo, perché il Movimento 5 Stelle è sempre stato colui che diceva che combatteva la povertà con il super bonus, con il reddito di cittadinanza, salvo incrementare le truffe e non creando assolutamente lavoro. Con il super bonus voleva ristrutturare tutte le case a gratis e abbiamo visto com'è andata a finire. Il problema è le risorse da mettere in pista perché se per 411.000 abitazioni si sono spesi oltre 100 miliardi con una tendenza a 140, figuriamoci quanto saranno da spendere per 1.800.000 edifici. I costi sono estremamente elevati e soprattutto c'è il rischio che una volta che ci sia la pressione a dover fare queste ristrutturazioni entro scadenze così ravvicinate, persino i costi di ristrutturazione ha messo e non concesso di trovare le imprese edili per farlo, che gli stessi costi esplodono alle stelle. Si è già visto quando bisognava andare a fare i noleggi dei ponteggi o di materiali isolanti col super bonus 110%, introvabili e se si trovavano costavano due occhi della testa anche qualche braccio. Fuori di andare con politiche calate dall'alto e soprattutto senza uno scenario di riferimento accettabile, tutte queste iniziative, seppur lodevoli nella forma di dover andare ad abbassare il consumo energetico e contemporaneamente anche ad abbassare le emissioni climalteranti, rischiano di essere un boomerang sulle parti più povera della società, quella che non potrà materialmente assumersi gli oneri per poter fare queste ristrutturazioni perché 50.000 euro sono un bel gruzzolo anche per chi malauguratamente ha risparmiato una vita per comprarsi un bilocale in qualche parte della periferia delle grandi città e non ha sufficienti soldi per pagare anche la ristrutturazione, oltre a dover magari subvarcarsi la rata del mutuo 25ennale o 30ennale che negli ultimi tempi grazie all'operazione di un altro braccio della commissione europea, quella della banca centrale europea, sono schizzati dal 0 al 4,5% comportando per una rata media di circa, che una volta prima degli aumenti era intorno a 600-700 euro, rate mensili di oltre 1000 euro al mese, con ciò sballando completamente anche le disponibilità economiche delle famiglie. Se andiamo avanti con questo sistema di agire, di calare decisioni, di calare obblighi dall'alto, è probabilmente, si avvicina anche il requiem per la stessa Unione Europea, perché a furia di atti contro i cittadini, dalla mobilità al case, al lavoro e vi dicendo, la commissione europea è destinata a implodere su se stessa. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata dello schiacciassassi termina qua, prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace, di condividere i contenuti con i vostri amici, da parte di Stefano Elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata, se vorrete. Ciao!